Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo sul Dream Reson 2 per vedere in quanto tempo, in quanto meno tempo possibile riusciamo a completare queste partite e quindi arrivare verso lì i 18.000 punti. Non ho fatto senti a guardare ci chiacchiere, iniziamo, l'abbiamo fatta portata perfetta. Guarda questo. Guarda come mi sta appiccivato questo qua, incredibile. Però mi sa che questo valore riesco ad arrivare il mio, ottimo. Ok, abbiamo completato pure la messa, non bene così andiamo, avanziamo ancora di più. Non ho fatto spiegare dentro io. Ok. Deve essere molto avanzato. Ok, arriva. Ma? Non arriva troppo, guarda il 19.999. Ok, arriva. Direttivo migliorare. Oh, guarda qui qua. Della baguglia normale, cioè, bene. Così. Ok, qua è soltanto una fase. Quindi se moriamo è finito. No, da qua sotto. No, da qua sotto. Ora, tutto tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ok. Questo non è ancora neanche da nessuno. Ok, riga, lo sceno. Allora, qui c'è. Ok, copia della borgia. Anche qua, sembra bene, no? Perché lì dove sono tutti gli scarsi. Niente. Vabbè, seconda. vabbè ragazzi sono quelle cose che mi rallentano ecco come non detto ok però riesco di nuovo a ritornare un'altra missione come è impossibile quando non faccio i video non le completo mai così in fretta quando poi lo registro e lo completo in manco 5 minuti cioè com'è possibile ok rica siamo arrivati i primi adesso cerchiamo di vincere anche questo ok un altro primo posto ci prendiamo questo qui ecco questa volta non è l'epico per fortuna questo è un po' difficile per la supercar devo dirla devo dirla sinceramente ti ho detto sinceramente tutto con sincerità non perderò l'ultimo ma vedo che qua non ci sono grosse difficoltà ok ma l'era vinta quella volta è un po' difficile adesso che viene liberato e adesso rimane questa qua ok non non ho fatto il 360 due di oggi non 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 ma siamo siamo alti davanti per il cuore dai rega siamo fatta? si rega per 5 euro per una macchina manco una cosa devo dire che però in 6 minuti fare queste 4-5 partite non è stato molto difficile spero che questa piccola challenge vi sia piaciuta lasciate tanti like noi ci vediamo domani con Stumbleguys ciao